L'accordo strategico tra Fiat e PSA per la produzione di veicoli commerciali leggeri in Val di Sangro è finito. A dichiararlo il segretario regionale della FIOM, Nicola Di Matteo, commentando l'intenzione da parte della PSA di prorogare la joint venture con Fiat per la produzione nello stabilimento di Atessa fino al 2019. Di questo accordo abbiamo notizia dalla stampa, detto Di Matteo, e riguarderebbe delle dichiarazioni rese ieri dal responsabile industriale PSA Dennis Martin che ha annunciato invece la fine della cooperazione tra PSA e Fiat per la Savelle Nord di Valenciennes a partire dal 2017. Il futuro della Fiat e quindi della Savelle di Atessa è fosco, guarda gli Stati Uniti con la Chrysler a fabbriche in Turchia, Serbia, Polonia e produrrà in Cina a partire dal 2013 un veicolo commerciale dell'Iveco identico al Ducato. Questi fatti dunque confliggono con la presunta strategia di Fiat in Val di Sangro. Intanto a giorni 150 operai della Fiat arriveranno in trasferta alla Savelle di Atessa dagli stabilimenti di Pomigliano, Mirafiori e Cassino per lavorare quattro giorni. Siamo di fronte ad un atteggiamento speculativo e schizofrenico da parte dell'azienda, ha sottolineato Di Matteo, che lancia un appello a tutti i disoccupati e ai sindaci del territorio per attuare nel più breve tempo possibile forme di lotta contro questo gruppo dirigente che prima taglia la 14esima e dopo va a pagare il doppio un operaio di trasferta per soli quattro giorni di lavoro.